È stata inaugurata in cortile Carrara a Palazzo Ducale una targa in ricordo della beata Maria Domenica Brun Barbantini per ricordare il duecentennale della sua nascita avvenuta il 17 gennaio del 1789. La celebrazione è iniziata con un canto di apertura dal titolo Un cuore appassionato, poi è seguita la scopertura della targa con la benedizione dell'arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti. La vita di Maria Domenica nata da Pietro Brun militare della Guardia Svizzera in servizio a Lucca e da Giovanna Granucci fu segnata da tanti lutti prematuri, in particolare quelli dei fratelli del marito e dell'unico figlio all'età di soli otto anni. Senza rassegnarsi si dedicò alla cura dei malati di Lucca in molti casi soli e abbandonati nelle loro case. La spinta verso la carità la portò poi a fondare la congregazione delle suore ministre degli infermi di San Camillo. Dopo l'inaugurazione della targa a lei dedicata, la cerimonia si è spostata in Sala Tobino. Alla presenza delle autorità cittadine e provinciali sono intervenuti la madre superiore a Lauretta Gianesin, l'arcivescovo e Monsignor Giovanni Scarabelli che ha parlato sul tema dell'attualità della figura e della missione della Beata Barbantini.